eccoci e bentornati sul mio canale dlc3 descend uscito e mappa empire rilasciata mamma mia quanto è bella mamma mia che mira che c'ho qualche giorno che non c'è gioco mamma mia ride quanto è bella così tutta americana si tutta americana tutta romana che bella ragazzi proprio tutta cambiata però nel senso è proprio la stessa struttura eccoli zitti zitti che arrivano presa 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 guarda pure le fontane che belle perché poi uno la conosce benissimo a memoria sta mappa e che è cambiata solamente la la grafica basta dovrebbero rinascere qua come erano tempo no cambiata però qua tipo mi ricordo ogni volta che ammazziamo uno rinascevano tipo la addirittura qua vi disturbo alla ragazzi vediamo un po di vincere sta partita che dominio a parte so anni che non c'è gioco so tipo anni che non c'è gioco sto prendendo in corpo quello andiamo 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 su su voglio provare pure quell'altra parte ah vedi sopra com'è cambiato qua tipo c'è stata tutta la gente camperà dietro al letto lo ricordate raga ah mo ci hanno messo i tavolini o sta uno qua aia mannaggia speravo che l'avesse ammazzato l'amico mio invece no caccia miseria questa mannaggia 3 3 vabbè e da penso quant'è due tre settimane che in gioco a black ops 3 almeno su 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 sappia tutte io le bandiere sappia tutte io ma mica è morto eh mica è morto il compare mannaggia la miseria allora andiamo qua su andiamo su b là ci mettevo sempre la torretta perché la gente deve camperà così come come animali come animali deve camperà cioè non si capisce o rimontano eh prendiamo alfa ci stanno dominando dovete reagire sono rimasti in due sono rimasti in due raga vedo solo due allora se entramola e vabbè stavo a vedere la classifica cioè non ci sta più nessuno cioè boh ma perdiamo tutto cioè ma se non ci sta più nessuno raga cioè ma mi sembra una cosa normale cioè non ci sta più nessuno boh sono rimasti in due contro il mondo tutte e due no ma non entra manco gente eh vabbè dai c'è due contro tutti poi tutti là c'è 4 8 ma perché ne entra la gente cioè non capisco perché ne entra la gente oh cacchio e mori cazza la miseria l'ounder è perso ma non ci arrendiamo mi sono rimasti in quattro cioè stiamo pure a vince non ci sta più nessuno cioè si è sparito proprio il mondo vabbè ragazzi tanto era giusto così un assaggio per farvi vedere la mappa Empire indipendentemente dal gameplay e ci vediamo nei prossimi giorni dove andremo a vedere tutte le altre mappe rilasciate se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale